La Guardia di Finanza, al termine di un'articolata indagine, ha denunciato due persone accusate di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e occultamento o distruzione di documenti contabili. Nel mirino delle Fiamme Gialle è finita una società che opera nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori. Nel corso di una verifica fiscale, in assenza di documentazione contabile, le Fiamme Gialle hanno analizzato oltre un migliaio di operazioni commerciali, accertando come tutte le cessioni siano avvenute senza il successivo pagamento dell'IVA e delle imposte dirette dovute all'erario, fa sapere la Procura. Sono stati accertati oltre 23 milioni di euro di ricavi e quasi 1.800.000 euro di IVA dovuta sottratti al fisco. In base a quanto scrive la Procura, la società rilasciava regolarmente la fattura ai propri clienti, ma ai fini dichiarativi venivano indicati dati non corrispondenti al reale giro d'affari, ovvero appena sufficienti per non far emergere debiti d'imposta. Così operando, prosegue la Procura, la società è riuscita a ritagliarsi un'importante fascia di mercato perché garantiva un prezzo competitivo, ottenendo un ingiusto vantaggio concorrenziale a discapito delle imprese che invece operano in modo lecito.